4 ottobre 2015 siamo a Roma con Marco Galletti, buongiorno organizzatore del Supercars 2015. Buongiorno a tutti, grazie di questa intervista. Supercar, dopo il successo dell'edizione 2014, devo dire anche inaspettata perché abbiamo riscoperto la passione dei romani. L'anno scorso abbiamo fatto più di 43.000 persone e quindi quest'anno, visto che c'è stato questo grande successo, abbiamo deciso di replicare il format dell'anno scorso. Quindi la manifestazione si svilupperà su 75.000 metri quadri, di cui 35.000 interni e 40.000 esterni. Parliamo della Fiera di Roma, qui invece siamo al Colosseo Quadrato, il Colosseo di Mussolini, all'Eur, con due ragazze immagine e con una decina di Ferrari perché oggi è un preambolo, possiamo dire. Sì, oggi presenteremo anche sulle strade di Roma la manifestazione Supercar con questa sfilata di più di 20 autovetture, quindi 20 bellissime Ferrari, grazie anche alla collaborazione con Passione Rossa di Presidente Fabio Barone. La manifestazione si suddividerà in tre padiglioni, dove avremo il primo padiglione con bellissime supercar, verrà sviluppato in un display centrale e saranno presenti dei marchi molto importanti, dei marchi come Pagani, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Bentley, McLaren, Porsche, insomma tanti marchi che saranno le regine di questa supercar. Ci sarà un altro padiglione dove ci sarà l'area Ecotech, che è un'area molto importante, dove verranno fatti dei workshop a tema grazie anche all'Agenzia della Mobilità, l'area Top 1000, che è l'osservatorio permanente composto da fleet e mobility manager, che conta più di 30.000 autoveicoli, un parco auto di oltre 30.000 autoveicoli. Poi ci saranno delle case generaliste come Nissa, come Ford, come Mitsubishi, insomma è un parterre abbastanza importante. Ci saranno anche eventi all'aperto come l'anno scorso, stunt? Ci saranno molti stunt, ci sarà la possibilità di fare il drifting experience, quindi daremo la possibilità a molti ragazzi di salire in macchina, di provare il brivito della velocità, il brivito del drifting, di fare come compilate, proprio le autovetture inderapate, ci saranno spettacoli di GT, di rally, insomma è una manifestazione a 360 gradi. Diamo la possibilità anche ai bambini di salire su dei kart, proprio per iniziare le prime esperienze, insomma è puro divertimento. Abbiamo anche un padiglione dove ospiteremo la finale del tuning estetico, che darà direttamente l'accesso alla finale europea di Salisburgo. Avremo l'aftermarket, avremo i club, avremo... Ancora più grande dello scorso anno, si annuncia. Beh, noi segniamo in grande, quindi siamo convinti che Roma risponderà in maniera positiva. E infatti quindi Supercarts, quindi Fiera Super, ovviamente l'Italia è brand non soltanto del food, ma anche dei supermotori, e quindi Roma, capitale d'Italia, siamo proprio qui in una grande location, il Colosseo Quadrato. Diciamo che abbiamo tutte le carte regola per poter far diventare questa manifestazione... Potremmo far riscrivere italiano, popolo di poeti, Italia, di artisti, di eroi e di costruttori di automobili. Di piloti. Io, che dire, vi aspetto dal 9 all'11 ottobre, Fiera di Roma, vi aspetto numerosi. Non dimentichiamo anche, e forse anche e soprattutto, Supercarts, ma anche supermodelle, superragazze, perché non nascondiamoli, molte persone vengono per vedere le ragazze più che le macchine o le moto, no? Devo dire che l'anno scorso sono state nominate le Supercarine di Supercare, quindi anche loro hanno un ruolo fondamentale. Insomma, stropicciatevi gli occhi, belle macchine, belle donne... Ci sarà molto da vedere. Grazie Marco, arrivederci a tutti al Supercarts, buona serata.